Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Questa settimana andiamo a riprendere il discorso sulla struttura narrativa in tre atti che avevamo cominciato l'anno scorso per andare a scendere un po' più nel dettaglio su come adattarla alla scrittura di quest e di campagne per il gioco di ruolo. Prima però una comunicazione di servizio. Come oramai da tradizione anche quest'anno, la penultima settimana ad ottobre, sarà un video speciale per il compleanno del canale. Come ho fatto l'anno scorso, dato che ho visto che avete apprezzato l'idea, anche quest'anno voglio dare la possibilità di fare un po' di domande a cui risponderò direttamente nel video, non legate necessariamente al gioco di ruolo. Se avete delle curiosità che volete sapere sul canale, qualcosa che volete chiedermi, cominciate a scrivere le cose nei commenti. Io adesso per un paio di settimane raccoglierò tutte le domande che arrivano, poi ovviamente dovrò mettermi a girare il video, quindi affrettatevi che gli ultimi che arrivano poi in mente faranno le domande dopo che il video è già stato dirato, quindi non saranno presenti. Detto questo, torniamo a noi. Come stavo dicendo, quando si va a analizzare la struttura in tre atti per vedere come adattarla a una campagna, ci si accorge che al suo interno contiene altre strutture in tre atti. Cosa sia la struttura in tre atti e perché sia di fondamentale importanza per qualsiasi tipo di narrazione, compresa la narrazione all'interno del gioco di ruolo, ne abbiamo già parlato l'anno scorso in una serie di video dedicati, molto lunghi e noiosi, ma in cui venivano spiegati i concetti fondamentali. Quindi io adesso non starò a ripetermi. Se non ve li siete visti, se li avete persi, se siete nuovi del canale, vi lascio il link qua in altro, andatevi a recuperare prima di andare avanti perché per motivi di tempo non posso ripetere tutte le cose nel dettaglio. Per riassumere diciamo soltanto che la struttura in tre atti è un modo per dividere il racconto nelle sue parti principali e serve per fare in modo che il master non tralasci nessuna delle parti fondamentali all'interno di un racconto. La struttura prevede che la storia venga divisa in tre blocchi principali che sono gli atti. Nel primo c'è l'introduzione in cui vengono fornite ai giocatori le informazioni che gli servono, nel secondo c'è il grosso del racconto in cui avvengono tutti gli eventi della quest e nell'ultimo c'è la conclusione in cui la storia viene portata a compimento, il conflitto centrale viene risolto e gli avventurieri finiscono la storia. Questa fondamentalmente sarà quella che è la struttura generale della vostra intera campagna. Ovviamente però una campagna non si limita a questo, come abbiamo visto una campagna è un insieme di saghe e una saga è un insieme di quest. Come si adatta tutta questa struttura a quella che è la struttura del racconto di un gioco di ruolo? Strano a dirsi ma si adatta utilizzando sempre la struttura in tre atti. Questa è chiamata la natura ricorsiva della struttura in tre atti, che è un modo molto aulico per dire che la struttura in tre atti funziona come una matrioska. Ogni atto al suo interno contiene una struttura in tre atti a più piccola e ogni atto di quella struttura contiene un'altra struttura in tre atti ancora. Ognuna di queste strutture di per sé è completa ma partendo da quella ai livelli più bassi ognuna di loro funziona come un blocco di costruzione che serve a stabilizzare la struttura in tre atti che viene sopra che a sua volta stabilizzerà struttura in tre atti che è sopra ancora. La cosa diventa molto più chiara facendo un esempio pratico. Diciamo che state lavorando su una campagna in cui il gruppo di eroi dovrà sconfiggere il signore del male. Il primo atto è quello dedicato all'introduzione e alla presentazione degli elementi principali del racconto. Diciamo che nel primo atto verrà presentata sia la zona geografica che la storia locale dell'area del mondo di gioco in cui si svolge la campagna. Per presentare questi elementi il master preparerà una saga che porterà i giocatori a visitare le varie località del mondo di gioco con varie quest ognuna strutturata all'interno di un elemento importante o della storia della geografia locale. L'ultima delle quest della saga terminerà con la scoperta dei piani del signore del male e fungerà da incidente iniziale e chiamata all'azione per tutta la campagna. Allo stesso modo il secondo atto potrebbe essere composto da due saghe con quest molto più di azione rispetto alla prima ognuna che termini con una falsa vittoria o una falsa sconfitta che sia nel climax del secondo atto e l'inizio del terzo atto. Il terzo atto potrebbe essere caratterizzato da una saga che si concentra proprio sulla fortezza del signore del male con una prima quest che sia a sua volta il primo atto in cui i giocatori scoprono come è fatta questa fortezza e quali sono le difese e tutti gli altri elementi che servono da introduzione alla zona di gioco e le altre che si concentrano su avventure specifiche in cui i personaggi si infiltreranno nella fortezza o mineranno i suoi punti deboli e l'ultima quest in cui sarà preparato e alla fine risolto lo scontro principale ovvero sia il conflitto con il signore del male e la sua sconfitta. Ognuna di queste saghe che vanno a comporre i vari atti avrà una sua quest che funge da primo atto in cui viene esplorata la sua locazione geografica, la sua storia e gli elementi importanti per quella saga e avrà varie quest in cui si va ad affrontare il conflitto principale di quella saga che fungeranno da terzo atto e finale. Ognuna delle saghe che vanno a comporre i vari atti avrà a sua volta quest specifiche al suo interno che forniranno magari delle informazioni sulla storia, sulla geografia o altre informazioni importanti per quella saga diventando così il primo atto e altre quest in cui verrà preparato e alla fine risolto il conflitto principale della saga, quindi quello con l'antagonista o comunque con la situazione di cui la saga va a parlare e questo conflitto principale della saga sarà ovviamente collegato al conflitto principale della campagna ovvero sia lo scontro con il signore del male. Questa divisione non serve solo a fare in modo che ogni arco narrativo sia al suo interno completo, cioè che il master non dimentichi dei pezzi lungo la strada, ma permette anche proprio di parcellizzare gli elementi del racconto per evitare che vengano aggruppati. Dato che ogni parte della campagna avrà un suo primo atto di introduzione il master non dovrà spiegare tutti gli elementi della campagna a monte ma spiegherà gli elementi che servono a quel determinato atto nella prima parte cioè nel primo atto all'interno dell'atto e allo stesso modo non saranno risolti tutti i conflitti in una serie di scontri contro vari boss tutti ammassati alla fine della campagna ma ogni saga avrà il suo conflitto che verrà risolto all'interno del suo terzo atto con una quest specifica. Non è una struttura diversa da quella che possiamo trovare in una serie di libri o in una serie di film collegati. Ogni libro, ogni film, ogni opera è completa in se stessa e coerente in se stessa ma funge anche da base per la narrazione nelle opere successive. Diciamo che per questo video è tutto, video corto ma argomento particolarmente ostico, fatemi sapere se effettivamente è comprensibile perché se no faccio poi un altro video in cui scendo ancora più nel dettaglio ma volevo evitare di fare come nei video precedenti, di video estremamente lunghi e difficili da digerire, soprattutto perché questi sono argomenti estremamente importanti. Comunque diciamo che per questa settimana finiamo qui ma la prossima settimana torneremo ancora nell'argomento per andare a vedere nello specifico come questa struttura matriosca dei tre atti si vada poi adattare con le regole meccaniche di costruzione di una quest che sono previste dal D20 system. Ovviamente nei commenti scrivetemi anche se voi utilizzate questo genere di schema, se lo conoscevate, se non lo conoscevate adesso lo utilizzate, se conoscete metodi migliori ovviamente, scrivete sempre tutto, scrivetemi anche le eventuali domande per il video che comprando dal canale, ve l'ho già detto, per un paio di settimane raccoglierò domande, poi dovrò mettermi a girare il video, quindi gli ultimi non saranno considerati. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi i prossimi video. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.